Una Pasqua in rosso, in tutta Italia gli spostamenti saranno limitati al massimo durante le festività. L'annunciato lockdown in tutta la penisola per sabato 3, domenica 4, lunedì 5 aprile, si conferma e precisa in queste ore con il nuovo decreto in arrivo. Stop a trasferimenti e a gite fuori porta, poche le eccezioni, ognuno dentro la propria regione, è consentita una sola visita al giorno a parenti e amici. Si va al massimo in due persone con l'aggiunta di minori di 14 anni, obbligo di rientro a casa prima delle 22. Al nucleo familiare è consentito raggiungere fuori regione la seconda casa di proprietà o con contratto di affitto abituale. Temendo l'assalto dei vacanzieri, alcuni governatori hanno imposto ulteriori restrizioni. In Alto Adige, Valle d'Aosta, Toscana, Marche non sono ammessi i arrivi da fuori regione. In Liguria, Campania e Puglia le seconde case possono essere raggiunte soltanto per gravi motivi, non per villeggiatura. In Sardegna e Sicilia entrano soltanto i residenti con tappone recente o certificato di vaccinazione. Durante le feste chiusi bar, ristoranti, pub, gelaterie, consentito soltanto l'asporto o la consegna, tra le eccezioni i negozi considerati essenziali come alimentari, farmacie e tabaccai. Ed è allo studio un provvedimento che chiuda bar e ristoranti fino al 30 aprile. Le restrizioni si rendono necessarie anche per dati preoccupanti, in crescita, ricoveri e decessi. L'ultimo bollettino registra infatti 529 vittime in un giorno. Sembrano invece calare i contagi, 16.000 casi in 24 ore, senza però i dati dalla Sicilia in ritardo. Inoltre, le curve dell'epidemia non corrono mai parallele. Il numero dei malati gravi e il conseguente sovraccarico sugli ospedali rimangono elevati.